Siamo in collegamento Skype con il difensore e capitano dell'US Avellino, Giuliano Laezza, che ringraziamo innanzitutto per la disponibilità. Grazie a voi, un saluto a tutti. Allora Giuliano, ben ritrovato innanzitutto, è davvero un piacere rivederti. Io direi di partire in questa intervista dalla stretta attualità, da questo Avellino che reduce dal bel successo a Foggia il terzo consecutivo in trasferta dopo il pari con la Juve Stabia. E allora questi compagni di squadra che stai seguendo da lontano hanno iniziato il campionato col Piglio, giusto? Sì, purtroppo li sto seguendo solo sulla piattaforma di Eleven Sport, quindi da vicino ancora non sono riuscito ad andare a salutarli, però veramente si stanno comportando non bene, ma benissimo. Veramente si vede la questione del gruppo, che già dall'inizio abbiamo formato un buon gruppo. Ad oggi secondo me veramente si vede la mano di tutti, dello staff, del gruppo, dei ragazzi. Anche chi è arrivato dopo si è messo in gioco alla grande, quindi veramente voglio fare complimenti a tutti i ragazzi. Per quanto riguarda il derby con la Casertana, squadra giovane con tanti problemi di infortuni in attacco, che partita ti aspetti? Ma sicuramente sarà una partita molto dura, molto dura come tutte, anche perché comunque è un derby e quindi sarà veramente difficile. Poi, come detto prima, non ci sono partite facili in questo girone, perciò è una partita che va affrontata nella maniera giusta, soprattutto perché comunque si gioca ogni tre giorni, quindi bisogna prepararsi veramente bene. Va bene, allora un grande in bocca al lupo Giuliano, un ringraziamento all'ufficio stampa dell'US Avellino e ti aspettiamo. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Un abbraccio, un abbraccio a tutti i tifosi.